Musica Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oh ho, here we go Yeah Are you taping this? Yes Yes He's making a short There's not much action Cheesy Cheesy He's making a short Yeah He 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 Oh no! No, can I see something? Sì Hai pagato il lion? Con un colino ho guardato Mi regno Con un giro Channel 2 Un po' di giro Un po' di giro Channel 2 Un po' di giro Un po' di giro Un po' di giro Simeone Un po' di giro Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah? Grazie a tutti.